Grazie a tutti. Abbiamo chiesto i contratti dei lavoratori che non hanno mai avuto, una serie di cose che abbiamo denunciato in questi giorni. L'azienda, la SVA, si è resa disponibile ad ottemperare le nostre richieste. Tanto è vero che lunedì ci ha confermato e ci ha dato un incontro dove chiariremo meglio queste situazioni, ma già siamo usciti con una cosa che l'azienda ha accettato, quelle che sono le nostre richieste che abbiamo fatto durante lo sciopero, i 4 giorni di sciopero. E' quello che chiedevano i lavoratori, la verifica delle buste paghe, la messa a posto, c'erano lavoratori che con il passaggio dell'ultima cooperativa che è avvenuto da marzo ad aprile del 2015, erano passati con la SVA ma non passati full time come lo erano prima. L'azienda si è dichiarata disponibile a passare immediatamente full time, quindi lunedì approfondiremo il tutto, è chiaro che aspetteremo lunedì e i prossimi giorni per vedere effettivamente se l'azienda mantiene le promesse che oggi davanti alla dottessa Fedullo ha detto. Se io accetto di venire incontro a quelle che sono le richieste di un gruppo di lavoratori della nostra organizzazione, io ho chiesto che veramente vengano applicate a tutti e chiaramente non solo ai nostri iscritti, che noi rappresentiamo, il sindacato rappresenta i lavoratori, non solo una parte di lavoratori. Queste sono migliorie, quindi cose vantaggiose per loro che andranno applicate a tutti, al di là se sono iscritti all'UGL o a qualche altro sindacato. Il rappresentante della Capaldo ha fatto solo questa dichiarazione dicendo che la Capaldo è terza in questa cosa, sicuramente sì, però ricordiamo che è la ditta committente di questi appalti.